SIGEP 2018 Ci troviamo allo stand di System Retail, il creatore di soluzioni innovative non solo per il settore retail ma anche per l'oreca e ci troviamo in compagnia di Claudio Garbini, l'amministratore delegato, diciamo anche il Deus Ex Machina di questo segmento che guida efficacemente tutto lo staff per riuscire a proporre con successo Le soluzioni in questo caso per l'oreca, buongiorno Claudio Buongiorno a voi Che cosa proponete qui a SIGEP 2018? Innovazione tecnologica, vantaggi, aiutare a migliorare le imprese, a raggiungere l'obiettivo di crescere il profitto, la fedeltà e la sicurezza del business Attraverso degli strumenti e attraverso dei software Assolutamente, come già potete inquadrare all'interno nelle nostre stand, le tecnologie sono informatiche ed aiutano le imprese a costruire un corretto processo Nella gestione del rapporto con il consumatore, tipicamente del mercato reca, puntando alla sicurezza del dato, all'ampia fidelizzazione Alla possibilità di costruire una relazione che raggiunga tramite mobile, informativa o servizi come la prenotazione O servizi come anche un ordine per poter poi ritirare il prodotto già pronto e poi soprattutto un puntuale controllo di gestione Perché la cassa deve quadrare E allora, io nel frattempo approfitto della nostra posizione che provvidenzialmente è proprio dinanzi agli hardware e i software di cui parlavamo Poso il Ranger che è una vostra creatura qui e, attenzione, mi faccio qui come mago Zurli Passando davanti alla telecamera e dandoti la possibilità quindi di poter mostrare attraverso le riprese quali sono questi strumenti hardware e software Ma allora, partiamo dal presupposto che ha appena depositato un Ranger e già questo è un terminale di cassa a tutti gli effetti Che permette a immobilità a qualunque operatore delegato di poter costruire l'ordine, il bisogno del cliente Che viene immediatamente trasferito con la stessa modalità ad un sistema, in questo caso POS, un terminale di cassa Che non fa altro che replicare ciò che un operatore potrebbe imputare manualmente E conclusa questa operazione permette la costruzione di informazioni tramite sistemi di stampa Dedicati alle varie aree di produzione distribuiti negli esercizi per far sì che la produzione sia correttamente pianificata Che la consegna del prodotto avvenga nei tempi che il cliente si aspetta e con la modalità ordinata E soprattutto al fine di garantire con le migliori tecnologie del gruppo Custom di cui facciamo parte Una continuità operativa senza quello che è il punto critico, il fermo dello strumento tecnologico Questo apparecchietto che hai tra le mani, che si chiama Ranger, che cos'è, come funziona? Beh, questo è un Rager Phone, è uno strumento industriale Mostriamolo Uno strumento industriale dà le performance specifiche per i settori dove noi lo proponiamo Quindi ha uno standard IP68 certificato che gli garantisce di lavorare a contatto con acqua, con polvere e a cadute anche da importante E questo ci permette di garantire all'operatore e agli operatori quella continuità operativa Perché poi è il punto centrale, l'attenzione va apposta sul cliente, sul business, i nostri strumenti devono adeguarsi I vostri strumenti che devono dare grande sicurezza, buona fidelizzazione, facile applicazione sul mobile e soprattutto un controllo estremamente preciso Assolutamente sì, oggi le imprese hanno bisogno di controllare in tempo reale ciò che si movimenta nei magazzini, ciò che viene prodotto La soddisfazione del cliente, il ritorno puntuale del cliente Ma quello che dico un puntuale controllo di gestione che permette all'azienda di pianificare gli acquisti In rapporto alle vendite, alla sua stagionalità e a quello che è il peso che ogni ingrediente viene utilizzato Cosicché nella corretta pianificazione noi controlliamo tutti i processi, tutto il ciclo produttivo dell'azienda Claudio, abbiamo forse suscitato, forse ci siamo riusciti Siamo riusciti a suscitare l'interesse dei vostri prodotti da parte di titolari di bar, pub, rosticcerie, ristoranti, pasticcerie, gelaterie e così via Se loro volessero avere un contatto commerciale con voi anche solo per avere delle informazioni, quindi veramente senza alcun impegno Qual è l'indirizzo di posta elettronica a cui possono scrivere affinché appunto voi possiate darne? La nostra azienda ha diversi canali di comunicazione, il nostro sito, la presenza sui social e l'informazione precisa è marketing at systemretail.it Che è l'indirizzo che state guardando ora in sottotitolo, grazie Claudio sei stato cortesissimo e sei rimasto nei tempi televisivi che io ti avevo richiesto Bravo, bravo, saluto agli amici di OrecaTV.it Grazie e spero per tutti che sia una grande manifestazione Beh di fatto il SIGEP è davvero grande, io sto correndo, sto saltellando da un padiglione all'altro per riuscire a fare tutte le interviste programmate documentando con microfono e telecamera quanto riusciamo poi a carpire Andiamo di fretta, andiamo di fretta, salutiamo Arrivederci Noi continuiamo, non andate via, grazie Claudio per la complicità e nel frattempo avremo modo di parlarne attraverso i nostri strumenti Orecanews.it, Beninnews.it Voi non andate via Grazie